Buona giornata. Tutti noi possiamo aver fatto cose sbagliate e lo sappiamo, ma non siamo sbagliati. Molto spesso l'etichetta di essere sbagliato per quel fatto lì, per quella circostanza lì, per quell'avvenimento lì, e uno lo è sempre, quasi che non avesse un appello, una possibilità di riscossa nelle cose. Non trattiamo gli altri per il loro sbaglio. Sì, abbiamo sbagliato, hanno sbagliato, ma non sono quello sbaglio. Nelle nostre case, nei nostri legami, nelle nostre situazioni là dove viviamo, puoi fare la cosa più bella, ti possono fare la cosa più grande, eppure tu riconosci sempre che quella persona lì è sbagliata. Toglieremo tanti pregiudizi se divideremo lo sbaglio dalla persona, allora che in ognuno di noi oggi ci possa essere meno pregiudizio, forse nelle persone che conosciamo di più e che forse hanno più rispetto, ma anche più voglia di esprimere il loro voler bene attraverso questa giornata con te e con ognuno di noi. Il Signore ti benedica. Buona giornata.